Il 27 ottobre 2017 il Comune non è mai intervenuto a pulire le fogne, le acque piovane, quando che piove l'ultima pioggia che ci stava 25 centimetri d'acqua. Altri che abitano lo stesso perché io quella sera non ero presente, stavo a Teramo, hanno aperto i tombini ma sono tutti tappati. E il Comune non se ne frega niente di noi. E le canalette delle acque che sono rosse, le canalette delle acque che sono rosse e ci risturga la foglia sopra in casa.